Benvenuti al meteo. La circolazione depressionaria presente sull'Italia interessa anche la nostra regione, ragion per cui nella giornata di sabato insisteranno ancora condizioni di estrema instabilità con possibilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio un po' ovunque, attenuazione dei fenomeni dalla sera. Domenica assisteremo invece ad un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche anche se nel corso delle ore più calde della giornata non mancherà lo sviluppo di nubi comuniformi capaci di dar luogo a brevi rovesci. Stesse condizioni ritroveremo anche per la giornata di lunedì. Le temperature saranno in lieve diminuzione nella giornata di sabato per venti orientali, in lieve aumento domenica per venti che si disporranno dei quadranti settentrionali. Mare inizialmente mosso ma con modo d'oso in graduale e progressiva attenuazione. Nel salutarvi vi auguro un buon fine settimana e arrivederci.